I bombardieri e gli sciami di droni pesanti hanno fatto risuonare ancora una volta l'allarme antiaereo su metà del territorio ucraino, in particolare nelle regioni meridionali orientali. Si cercano intanto i dispersi nell'attacco al polo industriale di Kharkiv, si registrano almeno cinque morti. Fonti ucraine affermano che lo stabilimento colpito producesse mobili, secondo Mosca, droni militari. Il ministro della difesa russo Shoigu ha visitato un impianto di munizione a Nizny Novgorod, a circa 400 chilometri a est di Mosca, supervisionando in particolare la produzione di bombe. Dopo la visita è stato dichiarato che la Russia ha aumentato drasticamente la produzione di ordigni pesanti. Non è fuori discussione una possibile offensiva terrestre russa. Nella regione di Kharkiv sono in corso lavori per realizzare trincee e bunker, che devono costituire la seconda e principale linea difensiva in caso di avanzata russa.